Il comune di Teramo ha il più alto tasso di dipendenti assenteisti. E' quello che emerge da un'indagine della Segreteria Giovani dell'Italia dei Valori che ha raccolto in uno studio statistico presenze assenze nei 47 comuni della provincia di Teramo. I dati sono stati raccolti da fonti ufficiali e comprendono le cause di assenza per malattia, ma non comprenderebbero le ferie. Dalle indagini risultano anche comuni virtuosi, ben 11, e sono quelli più piccoli. Tra i maggiori comuni si distinguono positivamente quelli di Atri, Pineto e Tortoreto. Teramo con quasi il 33% invece è la maglia nera, assieme ad Albadriatica, Martinsicuro e Roseto. Come dire che i fannuloni starebbero quasi tutti nel capoluogo di provincia. Il dato di Teramo è sicuramente un dato clamoroso. Significa che di tutti i 350 dipendenti, mediamente nel 2011, un giorno su tre non si recano al lavoro. Vale la pena fare una considerazione. Per Teramo delle due luna o dobbiamo affermare che i servizi sono inadeguati e quindi i dirigenti devono assumersi questa responsabilità, oppure ci troviamo di fronte a un colossale spreco di risorse che possiamo quantificare nell'ordine di 3 milioni di euro e possiamo dire che avremmo 90 unità di personale da impiegare in servizi più adeguati o più utili alla collettività come potrebbero essere servizi all'infanzia come gli asili nido o l'assistenza ai disabili, l'assistenza agli anziani o l'assistenza scolastica a soggetti e ragazzi svantaggiati. In tutto questo il comune può fare tanto, finora è stato fatto sicuramente poco.